Buon Natale da Renzo Arbore, voglio essere il primo ad augurare al pubblico Buon Natale e dunque sono disperato, devo dire la verità, perché Prova a sorridere è una canzone bellissima ma soprattutto svela un mio segreto. Io credevo che il sorriso che bisogna avere sulle labbra, sul viso quando si parla con la gente, fosse un mio segreto. Io sono fatto un po' largo nella vita e perché ho sorriso ma credevo che fosse un segreto invece con Prova a sorridere ormai sapete tutti. Sapete tutti che praticamente provando a sorridere si conquistano gli amici, si conquistano gli amori, si conquista la gente, si conquista il successo quindi il segreto purtroppo è stato svelato. Del resto vi esorto a fare una piccola prova. Provate a dire la stessa frase a una persona, seriamente, con l'atteggiamento serio eccetera e provate a dirla sorridendo. Vedrete che nel secondo caso avrete un successo straordinario. Provate a sorridere.